Cosa mangiavano gli antichi greci? Come lo mangiavano? Mangiavano già la feta e il famosissimo yogurt greco? Scopriamolo nel video di oggi dopo la sigla. Benvenuti, benvenuti a tutti. Io sono sempre Marco Franzoni e oggi siamo qui con un video più estivo, più leggero, più frizzante. Un video che riguarda il cibo. Oggi parliamo di cibo e parliamo ancora una volta del cibo nell'antichità. Parliamo di come e cosa mangiavano ovviamente gli antichi greci e allora cominciamo subito col dire che ovviamente nel mondo antico non si aveva a disposizione una quantità di denaro, di soldi, di sghei, di money come abbiamo oggi. Per cui reperire del cibo di qualità del cibo pregiato era comunque molto molto più difficile. E' una promessa doverosa in quanto anche gli antichi greci mangiavano per la maggior parte cibi che provenivano dalla famosissima, famosissima, magari anche no, ma dalla ben nota triade mediterranea. Cioè vino, olio d'oliva e frumento. Quindi anche uva, olive e pane che deriva ovviamente dal frumento. Chiaramente la dieta era basata sulla frugalità, quindi sul mangiare poco, sul mangiare quello che si riusciva a reperire. Ovviamente l'alimentazione dei greci, come lo era anche per i romani, era basata sui cereali. Circa l'80% di quello che si mangiava erano proprio cereali. I cereali più importanti erano orzo e frumento. L'orzo era molto più facile da coltivare rispetto al frumento, ma il pane fatto con l'orzo risultava più difficile da produrre e anche e soprattutto più difficile da digerire. Per cui era comunque preferito il classico pane con il frumento. La farina d'orzo era invece utilizzata per fare la mazza. La mazza era molto simile a una galletta di riso, ovviamente era una galletta d'orzo, che poteva essere mangiata cruda, cotta, riscaldata oppure anche inserita in una minestra, resa più molliccia, come una sorta di crostino immerso nella minestra, e poteva anche essere arricchita con formaggi, con spezie, con condimenti di vario genere. Uno dei condimenti più usati era anche per i greci, come lo era anche per i romani, il garon, che i romani chiamavano garum, e ne abbiamo già parlato nel video proprio sui romani. Era un qualcosa di molto simile all'attuale colatura di alici, dal sapore fortissimo che noi oggi probabilmente riterremmo assolutamente disgustoso. Ma oltre ai cereali cosa mangiavano, la scelta non era ampissima. Ovviamente la verdura e la frutta fresca costavano molto, per cui ci si doveva molto spesso accontentare di legumi secchi, di frutta secca. Diciamo che la zuppa di lenticchie era il piatto più comune, il piatto di tutti i giorni nell'alimentazione dei greci. Oltre alle lenticchie venivano molto utilizzati i ceci, le cicerchie e i piselli. Anche questi potevano essere serviti come caldi, oppure come zuppe fredde, oppure come snack. Anche qui, sempre in un modo molto simile alle gallette, i ceci venivano fatti cuocere, venivano fatte appunto delle gallette, dei piccoli snack di ceci abbrustoliti. I legumi, principalmente secchi, erano praticamente accessibili in tutte le zone della Grecia, per cui rappresentavano insieme ai cereali proprio la base della dieta classica di un cittadino medio-povero. Anche la frutta secca era ovviamente più alla portata rispetto alla frutta e alla verdura fresca. E soprattutto noci e mandorle erano le due tipologie di frutta secca più consumate. Per quanto riguarda la frutta fresca, comunque qualcosa ce lo si poteva concedere. Ad esempio i fichi, ad esempio il melograno e ad esempio l'uva. Particolarmente comuni erano i fichi, che potevano anche venire essiccati, per cui mangiati secchi molto spesso come antipasto serviti insieme al vino oppure serviti insieme a dei formaggi. Ovviamente anche per i greci, come per i romani, le spezie erano importantissime. Il cibo era poco, il cibo era molto spesso uguale di un giorno con l'altro, per cui si faceva un ampio, ampissimo utilizzo di spezie. Particolarmente comuni erano il pepe nero, il pepe bianco e anche le foglie di alloro, una pianta che se pensiamo alla Grecia era molto molto comune. Oltre alle spezie, ovviamente il condimento classico, tipico e fondamentale era l'olio d'oliva. Molto comuni anche per tutti gli allevatori di galline oppure di quaglie erano anche, oltre alle loro carni, le uova. Le uova erano accessibili a una larga parte della popolazione, però bisognava mangiarle comunque in un breve periodo di tempo. Sappiamo che le uova non possono essere conservate per molto, soprattutto se non si hanno a disposizione dei frigoriferi e nell'antica Grecia non avevano a disposizione i frigoriferi. E ora arriviamo alla parte delle curiosità, forse la parte più interessante di tutta la cucina greca antica, perché i greci preparavano una sorta di pancake molto moderni, molto avanguardisti, che chiamavano tagenias. Erano composti da, e vado a leggere, acqua, farina, sale, olio e o noci e anche del miele. Erano cucinati in una sorta di tegami, era questo proprio deriva il nome, che permettevano di cucinare questa sorta di pancake della storia antica. Gli staititas erano ancora qualcosa di molto molto simile a un pancake. Questa volta la ricetta originale non prevedeva l'utilizzo di sale, perché molto spesso venivano conditi con qualcosa di salato, come ad esempio i formaggi, come ad esempio varie spezie, oppure molto spesso mettendo insieme le due cose, abbinando dolce e salato, ad esempio abbinando il miele col formaggio. E questo, per gli amici sardi, potrebbe ricordare le seadas della Sardegna. Non che ci sia un collegamento, però mi è venuto in mente. Seadas dolce sardo di assoluta qualità, immagino che anche queste staititas, per l'epoca, siano state molto molto buone e gradite. E per quanto riguarda i formaggi, cosa mangiavano i greci? Mangiavano già la famosissima feta greca? Probabilmente sì. Mangiavano già lo yogurt greco? Probabilmente no. La feta o qualcosa di molto simile era già prodotto nella Grecia antica, molto molto diffusa, era proprio la produzione di formaggi di vario tipo. I formaggi poi venivano mangiati da soli, oppure venivano anche mangiati insieme a delle spezie, venivano aromatizzati, oppure venivano mangiati con il miele. Ovviamente non tutti potevano permettersi il miele, perché capiamo che non è reperito con facilità, perché il miele bisogna comunque portarlo via le api, e non era proprio un compito facile nell'antichità. Ovviamente i formaggi venivano anche utilizzati nella preparazione di zuppe e nella preparazione del pesce. L'abbinamento pesce-formaggio era veramente molto diffuso e proprio il pesce era diffusissimo in tutte le aree costiere, tant'è che ritroviamo molti oggetti che ci arrivano dall'antica Grecia che rappresentano questo cibo, questa pietanza, il pesce, il buonissimo pesce del mar Egeo. Il pesce che poi non si fermava solamente sulle coste, perché comunque riusciva ad arrivare anche abbastanza fresco nell'entroterra, per cui il pesce era comunque abbastanza consumato in quasi tutta la Grecia. Tant'è che alcune fonti riportano che sardine e alici avevano un prezzo abbordabile per molti cittadini ateniesi. Ovviamente la conservazione del pesce sotto sale ne allungava la vita. Era possibile consumarlo anche parecchi giorni dopo la sua pesca, per cui il pesce sotto sale era molto molto diffuso. E la carne? Beh, la carne non era così diffusa come il pesce ovviamente costava di più, era un bene di lusso. La carne nell'antica Grecia era un alimento esclusivo delle famiglie più ricche, dei cittadini più abbienti, ed era riservata a occasioni speciali come delle feste di tipo religioso. Un condimento molto apprezzato per la carne era ancora una volta il miele, ed era ancora una volta il formaggio. Formaggio che insieme aglio e cipolla rappresentava molto spesso il cibo dei soldati. I soldati infatti mangiavano molte cipolle e aglio anche crudi, soprattutto in alcune zone della Grecia come ad esempio a Sparta. Pare che molti moltissimi spartani mangiassero delle cipolle crude prima di andare in battaglia, e forse questo ci fa capire perché poi vincevano molte battaglie. La fiatella di cipolla probabilmente impensieriva il nemico. Spartani che molto spesso per queste loro usanze venivano derisi dagli altri abitanti della Grecia, e capiamo anche abbastanza bene il motivo, capiamo ancora meglio il motivo prendendo in considerazione il fatto che mangiavano uno stufato di maiale fatto anche con interiora di maiale, mischiato con alimenti di vario genere e varie spezie, che prendeva il nome di brodo nero. Che noi probabilmente non mangeremmo mai nemmeno sotto tortura, che era considerata disgustosa da tutto il resto della Grecia, ma che per gli spartani era una prelibatezza eccezionale. Tant'è che Plutarco ci dice addirittura che gli anziani rinunciavano a mangiare carne e preferivano questo brodo nero per lasciare la carne fresca ai più giovani. Pare che gli anziani di Sparta mangiassero quasi ed esclusivamente tutti i giorni questo brodo nero. E ora apriamo il capitolo vino, vino nell'antica Grecia. Come accadeva anche nell'antica Roma, il vino non era molto spesso bevuto, liscio, puro, senza acqua e senza alcun tipo di aromi, veniva molto spesso allungato. Il consumo di Akraton, il vino non miscelato, quindi il vino puro così com'era, era considerato addirittura pericoloso. Era considerato un gesto barbaro riservato alle popolazioni del nord che poteva indurre addirittura la pazzia. Ed è per questo motivo che i greci, come anche i romani, allungavano il vino con acqua, con miele e vi aggiungevano anche varie spezie. I greci bevevano molto spesso anche il chicheon. Adesso scusate per la mia pronuncia del greco, non avendo fatto il classico, probabilmente sarà pessima, ma comunque questo chicheon era una bevanda a base di acqua, orzo ed erbe aromatiche. Nell'Iliade è riportata proprio questa bevanda, a cui tra l'altro veniva anche aggiunto del formaggio di capra grattugiato. Che meraviglia! E ora parliamo di come si mangiava. Parliamo della suddivisione dei pasti. A colazione si mangiavano sempre focacce, pane o i pancake citati all'inizio del video insieme al latte oppure miele, se ce lo si poteva, se ce lo si poteva... Oppure anche con il vino miscelato. Il pranzo invece era un pasto molto veloce che prevedeva zuppa di lenticchie, zuppa di frumento, zuppa d'orzo o del formaggio, ma comunque molto veloce. La cena era anche in questo caso il pasto fondamentale della giornata, il più importante, e veniva consumato al tramonto. Immaginatevi questo bel tramonto greco col sole, con dei colori magnifici che cala dietro il mare e questi greci che mangiavano le loro prelibatezze. Però a questo punto bisogna immaginarsi un'altra cosa, una differenza enorme rispetto ai giorni nostri, ma anche rispetto ai romani, perché uomini e donne mangiavano separatamente. Quando la casa era troppo piccola, infatti, gli uomini mangiavano per primi con le donne che servivano loro il pasto e finito il pasto degli uomini, potevano mangiare le donne. Nelle famiglie ricche non erano ovviamente le donne a servire i pasti, ma erano gli schiavi, però è proprio Aristotele a dirci che i poveri, non avendo gli schiavi, chiedevano alle loro mogli o alle loro figlie di servire loro il cibo. I greci ovviamente non avevano a disposizione le posate, mangiavano esclusivamente con le mani, a volte venivano usati i coltelli per tagliare la carne oppure una sorta di cucchiai per le zuppe. Ovviamente mangiare le zuppe con le mani era difficile. Concludiamo parlando del Symposium. Il passatempo preferito dei greci più abbienti, dei greci più ricchi, era diviso in due parti, una parte dedicata al cibo e una parte dedicata al vino, al bere e anche, pensate un po' ai giochi d'azzardo. Infatti la seconda parte dedicata al vino e, compiuta molto spesso in onore del dio Dioniso, prevedeva brindisi, lunghe conversazioni e vari tipi di giochi da tavola. Ultima ma bellissima curiosità per quanto riguarda la greca antica era che erano diffusissime molte diete, anche diete vegetariane. La dieta vegetariana era molto diffusa, erano diffuse anche delle diete portate avanti da alcuni filosofi, alcune figure storiche come ad esempio la dieta di Pitagora che, essendo allergico alle fave, infatti molto probabilmente Pitagora soffriva di favismo, proibì a tutti i suoi discepoli, a tutti i suoi studenti, di mangiare questo alimento. Anche per gli atleti era poi consigliata una dieta tipica. Sappiamo che le Olimpiadi avevano un'importanza straordinaria nell'antica Grecia e agli atleti era sconsigliato di bere vino ed era consigliato di mangiare il maggior quantitativo di carne possibile. Quindi l'atleta greco aveva una dieta proteica, aveva una dieta priva di alcol, dieta top, dieta al passo coi tempi, ultra moderna, ottimo. E il video di oggi si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like e un commento, iscrivervi al canale anche perché questo tipo di contenuti mi richiedono un sacco di tempo nella preparazione per cui non escono molto spesso. Se volete costantemente rimanere aggiornati, mettete un bel like, attivate soprattutto la campanella, bottoncino iscriviti e noi possiamo vederci a un prossimo video. Grazie a tutti.